Salve a tutti, sono una studentessa della classe terza G del liceo linguistico Antonio Rosmini di Grosseto e insieme alla mia classe partecipo al progetto KICODE. KICODE è un acronimo che sta per competenze chiave per giovani europei ed educazione all'empatia e all'interculturalità. La scheda del progetto 4 culture ci ha dato la possibilità di aumentare alcune competenze chiave degli alunni, in particolar modo rafforzando le abilità interpersonali basate sull'empatia. Che cos'è l'empatia? L'empatia è la capacità di ogni persona di calarsi nei panni degli altri, cercando di capire cosa prova quella persona in quella determinata situazione. Adesso vedrete come abbiamo sviluppato il nostro lavoro sulla scheda che abbiamo scelto, che è la scheda attività a quattro culture. Ci siamo divisi in gruppi, ci siamo presentati e infine confrontati, rivelando poi in un secondo momento la nostra prima impressione a contatto con gli altri gruppi. Noi siamo persone gentili e socievoli. Con le mani noi comunitiamo. E ad alta voce noi parliamo. E tante educazioni abbiamo. Siamo il gruppo verde. A noi ci piace toccare la gente durante le conversazioni. Infatti stringiamo la mano per tanto tempo. E noi siamo il gruppo giallo! Noi siamo il gruppo rosso e ascoltiamo attentamente gli altri. Catturiamo lo sguardo degli altri con i nostri occhi. Noi facciamo tante domande perché le persone ci incuriosiscono. Ma secondo te loro sentono in pace qui di là? Non lo so, ho un po' paura di arriscarli. Anch'io non vorrei parlarci. Noi siamo il gruppo blu e siamo molto timidi ma anche molto curiosi. E adesso vedremo interagire il gruppo verde e rosso. E adesso vedremo interagire il gruppo verde e rosso. Oh ciao, come vi chiamate? Tommaso, voi? Io Silvio. Lei sventa. Che scuola fate? Noi frequentiamo il terzo anno delle scienze umane e voi? Noi facciamo il linguistico sempre il terzo anno. Che vi piace fare di bello del tempo libero? Uscire, ascoltare la musica, giocare a calcio. Sì, anche a me. Poi mi piace anche guardare film e stare con i miei amici. Insomma, è sempre forte. Fondamentalmente a me piace leggere, quindi leggo quando ho del tempo libero oppure esco con i miei amici. A me non guardo leggere. Nel tempo libero riesco a uscire con gli amici, andare in palestra a scoprire la musica. Bene, bene. Avete un genere di libro preferito? No. No. Leggo di tutto. Anche di uguale, non ho un genere in particolare. Io invece preferisco i libri fantasy. Sono appincenti. Un sport? Sì. No. Un sport ice. Calcio. Mi sarebbe appassionato di calcio. Ti vuoi vederlo giocare? Oggi ti vuoi in mente giocherà a calcio. Interessante. Dopo la partita possiamo andare a cena insieme? Certo. Sì. Perfetto. Quindi quando inizia la partita? Alle 5. Va bene, saremo là. Ciao. Ciao. E infine vedremo interagire gruppi blu e giallo. Sì. Ora devi si rivedere. Ciao. Come stai? Tutto bene. L'arriera. Stasera. 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 dalle 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 3. Voi vi conoscete. Io vi conoscete. Io vi conoscete. Noi gli abbiamo avvenuto insieme. Quanti anni ha io? Siete. Due. E' avvenuto. E voi? Anche noi i ritroviamo avvenuto. Adesso dobbiamo andare. Dio, ora passare. Ok. Ciao. Ciao. Alla fine si sperimenta l'intervista. Come ti sei sentito durante l'attività? Durante l'esperienza mi sono sentita bene ed è stata un'esperienza nuova. Anche per me è stata un'esperienza nuova ed è stato un piacere collaborare con i miei amici. Noi ci siamo trovati bene perché è stata un'esperienza nuova e particolare. Anche noi ci siamo trovati bene perché abbiamo legato ed è stata anche per noi un'esperienza nuova. Come ti sei sentito a parlare con gli altri studenti? È stato difficile in quanto il nostro gruppo è molto timido, però è stato allo stesso tempo molto costruttivo. Per noi non è stato molto difficile visto che il nostro atteggiamento è pressoché identico. All'inizio abbiamo frainteso il comportamento degli altri gruppi perché erano più timidi. Noi invece non abbiamo frainteso perché essendo questo un progetto basato appunto sull'empatia e sul comprendere gli altri ci siamo imposti di non giudicare. Come ti sei trovata con le caratteristiche del tuo gruppo? All'inizio quando mi hanno detto che dovevo far parte di un gruppo di persone timide mi è sembrato un po' strano in quanto non sono una persona timida, però alla fine mi sono trovata bene. Io invece mi sono trovata male perché caratteristiche sono molto più. Io sono una persona timida e non mi sono trovata bene con le caratteristiche del gruppo. Anch'io personalmente non mi rivedo le caratteristiche del mio gruppo quindi non mi sono trovata molto bene.